tra l'erba e la strada voglio parlare con voi dell'erodium ciccutarium di quello che ci insegna questo piccolo fiore molto intelligente nel cemento se abbassiamo lo sguardo camminando possiamo incontrare questo piccolo fiore strisciante che spunta dalle fessure delle strade uno fra i tanti l'erodio ciccutario è della famiglia delle geraniacee diffuse dall'eurasia dal nord africa poi in tutto il mondo è grazioso ha fiori di pochi millimetri è piccolo e sembrano occhietti della primavera fiorisce da maggio ottobre e testimonia nella sua piccolezza però la sottile magnifica intelligenza delle piante io lo incontro camminando per esempio a torino in corso 4 novembre lungo il comprensorio militare anche se adesso solerti giardinieri l'ha molto ripulito molte piante se ne sono andate per la recente festa che c'era di Santa Rita e allora guardando questo piccolo fiore noi capiamo la frase meravigliosa di Proust la saggezza non si riceve bisogna scoprirla da sé dopo un percorso che nessuno può fare per noi perché è un modo di vedere le cose e allora inchinandoci guardiamo questo piccolo piccolissimo fiore è ermafrudita dal colore rosa o fucsia maranto e le foglioline sono seghettate come la cicuta per questo si chiama cicutario ma colpisce la ricchezza di particolari perfetti in un'erba così piccola che sembra insignificante e questo è il primo insegnamento l'importanza delle cose di un uomo non si misura dalla visibilità che possiede è intrinseca alla vita il nostro valore non sta nella risonanza che gli altri ci attribuiscono scaturisce dal nostro essere unico e prezioso e così il fiore si espande in mazzetti allegri dal profumo di prezzemolo che convivono molto bene con le pietre e qui c'è un altro insegnamento perché questo fiore non è mai solo siamo preziosi ma diventiamo incisivi se accettiamo la relazione con gli altri siamo una rete come ci indica il dove ci sono filamenti intrecciati di galassie come ci indica ogni foglia tessuta di sapienti fibre ma la cosa più straordinaria che si insegna è attraverso l'intelligenza dei semi che sono un vero capolavoro sono semi originali audaci che svettano come becchi di airone di cui il nome erodio che vuol dire airone e concentrano tutta la loro straordinaria intelligenza per proteggere la vita e anche noi dovremmo fare altrettanto e invece e invece vediamo come la distruggiamo questa vita i semi nascono timidi e pelosi poi si allungano e a un certo punto vengono lanciati espulsi fuori con un meccanismo a molla autonomo e così si proiettano nell'aria dove essendolo igroscopici con l'umidità si gonfiano e si attorcigliano e questa spirale piano piano li fa penetrare nel terreno come un trapano e così il fiore può nascere da un seme che è stato nascosto sotto ma per evitare che venga portato via per esempio da alcuni insetti che arrivano che potrebbero tirarlo come le coccinelle o le formiche questo filamento si stacca proprio per impedire di essere attaccato e così il seme è salvo e allora questo è l'altro grande insegnamento la nostra vita quella di ciascun essere umano dovrebbe richiedere i maggiori sforzi per essere salvaguardata i maggiori stratagemmi e invece viene calpestata con una leggerezza diabolica come vediamo oggi durante le ultime guerre ma la natura continua a indicarci la vera strada e il suo monito è indiscusso la vita è un capolavoro riproducibile ma fragile esposto che richiede impegno intelligenza per conservare la natura che è in noi. Era la frase scritta nel libro recentemente edito e curato da Olivi intelligenza della natura che dice l'intelligenza degli esseri umani riflette e risuona con l'immensa intelligenza che organizza il mondo e così anche mi viene in mente la frase di un naturalista scozzese John Weir che aveva studiato le foreste che disse la via più chiara verso l'universo è attraverso una foresta selvaggia. Anche noi qui abbiamo fatto un piccolo viaggio verso l'universo proprio attraverso il piccolo rosa erodio. E allora camminando per la città buttate un occhio in basso come faccio io nel piazzale di Santa Rita per vedere se mai spuntasse un mazzetto di erodio nascosto magari tra l'orzo selvatico superbo e l'amaranto molto più aggressivo e se vi intenerite è giusto perché è nobile stupirsi del mondo e inchinarsi ad esso riconoscenti. Grazie di avermi ascoltato e voglio lasciarvi con una bella frase di Verne la forza creatrice della natura vince l'istinto distruttore dell'uomo che sia una speranza per tutti noi. A presto.